Anche Taranto entra nei giochi post-scissione tra Forza Italia e nuovo centrodestra, tra perlusconiani e alfaniani, lealisti e governativi. Nel PDL Ionico, sebbene la base del partito sia saldamente ancorata al leader fitto, si registrano le prime adesioni al nuovo contenitore nato dalla scissione delle Colombe. Trasloca a pieppari nel nuovo centrodestra il movimento di giovanardi, popolari e liberali, guidato dal tarantino Angelo Fiore. Stiamo con Alfano, spiega Fiore, siamo con giovanardi e gli altri amici tra i fondatori di questo nuovo partito. Nessun segreto, impossibile per noi dopo il PDL rimanere in Forza Italia, un partito a rischio e derive estremiste, non sono i nostri valori, i nostri ideali e poi, prosegue Fiore, noi siamo per scelte collegiali e assembleari, non per le decisioni imposte dall'alto. Nessun dubbio dunque il movimento di giovanardi sarà capofila a Taranto del nuovo schieramento di centrodestra. E non siamo, né saremo, aggiunge Fiore, una costola di Forza Italia, non siamo un sottogruppo, né è stato un abbandono soft quello col PDL. La nostra è una forza politica nuova, indipendente da berlusconiani e da fitto, chiarisce. Un partito che, stando a Fiore, presso, cioè dopo la possibile decadenza di Berlusconi da senatore il 27 novembre, registrerà nuove adesioni su tutto il territorio. Sono tanti, ha detto, gli amministratori che a Taranto e provincia hanno chiesto di incontrare Alfano. Prima di allora non usciranno né ufficializzeranno la loro posizione. Consumata la rottura tra berlusconiani e il suo ex Delfino, insomma, Taranto ora è caccia alle nuove adesioni. Il PDL Forza Italia certo non resterà a guardare, il partito monitorerà la situazione e cercherà di arginare ogni fuga. Ma l'esodo ormai è già cominciato.